Mantova con Gusto ormai è giunta alla sesta edizione e sono due le edizioni che facciamo di solito durante l'anno, una in primavera e quindi per Pasqua e un'altra invece in autunno, a ottobre. Quest'anno gli espositori sono direi parecchi, provengono ovviamente da tutte le regioni italiane, con particolare attenzione quest'anno alle province di Bergamo, Brescia, Cremone e Mantova perché quest'anno Mantova è capitale dell'enogastronomia a livello europeo, quindi abbiamo invitato produttori di quelle zone e poi abbiamo produttori che provengono da altre regioni italiane, dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Toscana, dall'Illiguri. Ovviamente si possono assaggiare ed acquistare i prodotti e anche ci sono delle piccole somministrazioni di strada con particolarità sempre da tutta Italia, con prodotti sfiziosi per chi vuole degustare qualcosa in piazza. C'è anche la paella che di solito ci accompagna sempre in tutti i nostri percorsi per dare comunque un segno anche di continuità visto che noi organizziamo anche altri eventi durante l'anno e in particolar modo ricordo l'antica Fiera dei Mangiari che si svolgerà anche quest'anno a giugno sul Lungolago, dall'8 al 18 di giugno. E anticipiamo che quest'anno sarà un'edizione particolarmente ricca perché ospiteremo il Food Film Festival di Bergamo che verrà a chiudere il festival a Mantua proprio nei giorni della Fiera dei Mangiari, quindi a giugno. E quindi un ospite d'eccezione per la prossima iniziativa. Mantua con Gusto quest'anno ha ospitato anche due eventi collaterali in collaborazione con la Curia. Abbiamo organizzato ieri che era venerdì come anticipazione e insieme al liceo Isabella d'Este di Mantua un concerto con il coro del liceo alla chiesa di Santa Barbara e poi abbiamo in qualche modo accompagnato quella che è la mostra presente ormai da un mese al diocesano su tutte le opere sacre inerenti alla Pasqua. Quindi un invito ovviamente, visto che siamo nei giorni festivi della Pasqua, ad andare a visitare anche il museo diocesano con la mostra ma anche con i tesori che ospitano ormai da tempo al museo diocesano.